Lezione 1. Avventura in campagna. Una gita in campagna? Ahm, potrebbe essere interessante. Cosa ne pensi, Anna? Mi piace l'idea, John. Esplorare la pittoresca campagna sembra un'avventura rinfrescante e piacevole. Assolutamente. Sarebbe una grande opportunità per sfuggire al trambusto della città e entrare in contatto con la natura. Sono d'accordo. È bello prendersi una pausa dalla routine quotidiana e immergersi nella bellezza della campagna. Hai in mente qualche destinazione specifica? Che ne dite di visitare un'incantevole cittadina circondata da dolci colline e paesaggi pittoreschi? Sembra adorabile. Sarebbe un ambiente perfetto per una vacanza tranquilla e rilassante. Potremmo anche pianificare alcune attività all'aperto come escursioni a piedi, in bicicletta o anche fare un picnic in mezzo alla natura. Questa è un'ottima idea. Sarebbe meraviglioso dedicarsi ad alcune avventure all'aria aperta e godersi la tranquillità della campagna. E non dimentichiamo di provare la cucina locale. Esplorare la scena gastronomica in una città di campagna può essere piuttosto eccitante. Assolutamente. Scoprire le prelibatezze locali e provare i sapori della regione sarebbe una delizia per le nostre papille gustative. Sono sicuro che durante la nostra esplorazione della campagna incontreremo alcune gemme nascoste e caffè affascinanti. Sarà una vera avventura piena di nuove esperienze e ricordi indimenticabili. Posso già immaginare i panorami mozzafiato e il senso di serenità che offre la campagna. Sarà un cambio di ritmo rinfrescante. Non vedo l'ora di mettermi in viaggio e imbarcarmi in questa avventura in campagna con te, Anna. Sono altrettanto emozionato, John. Sarà un viaggio incredibile. Sfruttiamolo al meglio. Assolutamente, Anna. Abbracciamo la bellezza della natura e creiamo ricordi che dureranno tutta la vita. Non potrei essere più d'accordo. Sarà un'avventura che adoreremo. Preparati per un fantastico viaggio in auto, John. Sono pronta, Anna. Facciamo le valigie e partiamo per questa scappatella in campagna. Prepariamoci per un viaggio fantastico. Lezione 2. Evitare gli acquisti impulsivi. Ultimamente ho cercato di risparmiare. Hai qualche consiglio su come evitare gli acquisti impulsivi, Anna? Assolutamente, John. Un consiglio efficace è fare una lista della spesa prima di andare al negozio e attenersi ad essa. Questa è una buona idea. Avere un elenco ti aiuta a rimanere concentrato e ti impedisce di fare acquisti non necessari. Un altro consiglio è quello di concedersi un periodo di riflessione. Se vedi qualcosa che desideri, aspetta un giorno o due prima di acquistarlo. Questo ha senso. Dedicare del tempo a pensare a un acquisto ti aiuta a valutare se è qualcosa di cui hai veramente bisogno o solo un desiderio fugace. Esattamente. Ti aiuta a distinguere tra acquisti impulsivi e prendere decisioni di acquisto informate. Esistono tecniche specifiche per resistere alle tentazioni durante lo shopping? Una tecnica è evitare di fare acquisti quando ci si sente emotivi o stressati. Le emozioni possono spesso portare a acquisti impulsivi. Questo è vero. È importante essere consapevoli del nostro stato emotivo e non lasciare che influenzi le nostre decisioni di acquisto. Un'altra tecnica è stabilire un budget e rispettarlo. Ti aiuta a dare priorità alle tue spese ed evitare spese eccessive per articoli non necessari. La definizione di un budget è un approccio pratico. Mantiene sotto controllo le tue finanze e ti assicura di fare scelte sagge. Infine, considera il valore a lungo termine di un acquisto. Chiediti se è in linea con i tuoi obiettivi e se ti porterà una soddisfazione duratura. Considerare il valore a lungo termine è un ottimo punto. Ti aiuta a fare acquisti che aggiungono davvero valore alla tua vita. Sono lieto che trovi utili questi suggerimenti, John. Evitare gli acquisti impulsivi può farti risparmiare denaro e promuovere un consumo consapevole. È un buon consiglio, Anna. Lo terrò a mente e applicherò queste strategie alle mie abitudini di acquisto. Sono sicuro che la pratica di queste tecniche ti aiuterà a fare acquisti più intenzionali e ponderati. Grazie, Anna. Apprezzo la tua guida. È importante essere consapevoli delle nostre abitudini di spesa e fare scelte finanziarie intelligenti. Benvenuto, John. Sono lieto di esserti stato utile. Ricorda, si tratta solo di prendere decisioni consapevoli e rimanere fedeli ai tuoi obiettivi. Parole sagge, Anna. Cercherò di essere più attento ed evitare di cadere preda di acquisti impulsivi. Ecco uno shopping più intelligente. Lezione 3. Creare uno spazio sicuro Stavo pensando di creare uno spazio sicuro in casa mia, Anna. Qualche idea su come renderlo accogliente e invitante? Assolutamente, John. Un modo per creare uno spazio sicuro e incorporare elementi della natura, come piante da appartamento o un piccolo albero. Ottima idea, Anna. Avere del verde in casa non solo aggiunge un tocco di serenità, ma aiuta anche a migliorare la qualità dell'aria. Esattamente. Le piante possono creare un'atmosfera rilassante e portare un senso di tranquillità nel tuo spazio sicuro. Quali altri elementi possono contribuire a creare un ambiente sicuro e accogliente? Le luci soffuse, come lampade dai toni caldi o candele, possono creare un'atmosfera rilassante e favorire il rilassamento. Mi piace questo suggerimento. Un'illuminazione delicata può fare una grande differenza nel creare un'atmosfera rilassante. Un'altra idea è quella di includere comode opzioni di seduta come comode sedie o morbidi cuscini. Incoraggia il relax e il comfort. I posti a sedere comodi sembrano perfetti. È importante avere un posto accogliente dove rilassarsi e sentirsi a proprio agio. Inoltre, considera di incorporare oggetti personali che ti diano gioia, come fotografie, opere d'arte o oggetti sentimentali. Questo è un ottimo punto, Anna. Circondarti di oggetti significativi può aiutare a creare un senso di appartenenza e benessere emotivo. Infine, non dimenticare di aggiungere fragranze rilassanti attraverso candele, oli essenziali o fragranze naturali. Un'aroma gradevole può favorire il rilassamento. Non avevo pensato ai profumi, ma è un suggerimento fantastico. Gli aromi possono avere un impatto profondo sul nostro umore e sul nostro benessere. Sono lieto che trovi utili queste idee, John. Creare uno spazio sicuro significa renderlo personalizzato e nutriente per te stesso. Apprezzo le tue intuizioni, Anna. Sono entusiasta di incorporare questi suggerimenti e trasformare un angolo della mia casa in un rifugio sicuro. Sono sicuro che andrà benissimo, John. Il tuo spazio sicuro sarà un santuario dove potrai trovare conforto e ringiovanimento. Grazie per l'incoraggiamento, Anna. Ti sono grato per la tua guida. Ecco come creare uno spazio accogliente e sicuro. Complimenti, John. Che il tuo spazio sicuro ti porti pace, conforto e un senso di tranquillità. Goditi il processo. Lo farò, Anna. Grazie ancora. Non vedo l'ora di abbracciare la trasformazione. Grazie. Grazie.